Salve a tutti giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video Si avvicina il nuovo mese di format E quindi oggi andremo a vedere qualche, secondo me, deck outsider Qualcuno magari meno sospetto, perché insomma ha fatto vedere qualcosa Comunque andiamo a vedere qualche futuro meta outsider Ovviamente ci andiamo a rifare con le liste OCG Cercando di adattarle al volo Però insomma, potenzialmente c'è un bel po' di roba Prima di iniziare, come sempre ragazzi Io vi invito a iscrivervi al nostro canale, prima di sempre aggiornati Ricordo che l'iscrizione ci aiuta tantissimo Io vi ringrazio Detto ciò, partiamo Voglio fare una menzione onorevole per il Tachyon FTK Perché al momento ancora non ci sono, al momento della registrazione ancora non ci sono liste Ma a quanto pare sta facendo discretamente bene Quindi quando andremo a parlare di un deck che è uscito sempre Shining Duelist Comunque Duelist of Bryants, vabbè quello lì Menzione onorevole anche per il Tachyon Ovviamente partiamo con il più papale Il più papale che è il Memento Memento che è diventato Ha avuto una consistenza assurda Ovviamente il Max ci lascerà il tempo che trova Sarà sostituito magari da Libiro, magari da Ogher, magari da qualcos'altro Magari da Super Poli Comunque di liste per adattare il Memento ci sono Uscirà ovviamente lui che è la fusione più forte del mazzo Anche la ship che dà veramente un bel boost Tra l'altro qui gioca anche il Crimson Gaia Non fate testo per lui, non fate testo Però anche il Crimson Gaia con il visore soneto, il fatto che si gioca qualche sincro potrebbe essere interessante una soluzione del genere Poi c'è anche la versione con Fismit Però effettivamente se avete il budget di fare Fismit Magari non puntate Memento, puntate su Snake Gaia Tecnicamente A meno che, beh, dipende sempre Dipende anche sempre Comunque pure con Fismit ovviamente la morte è sua Qui un'altra lista sempre In Memento tutti i mazzi che hanno comunque fatto delle top importanti Quindi anche qui gioca con Super Poli Gioca con Super Poli Quindi magari si può adattare Togliendo magari Little Knight Più target di Super Poli Quindi potrebbe essere molto interessante C'era una lista che mi piaceva particolarmente Non questa qui Era questa Può essere che era questa Secondo posto Ecco, questo gioca Ecco, eh sì 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 Era questa qui che mi interessava particolarmente Perché non era per nulla male Che gioca sostanzialmente in Memento Classice Uno perde la ship E Goblin con La mesa ovviamente Perché aiutano sempre il mazzo Ma più che altro Con il fatto che magari tu vai a giocare la Super Poli Vai a togliere le Little Knight L'SP In modo da avere un mazzo Relativamente più budget Avere Super Poli Che comunque rompe il culo Papale papale E avere un mazzo discretissimo Cioè veramente molto molto buono Perché comunque C'ha modo di fare un sacco di roba Anche interruzione Anche di riciclarsi le carte Quindi Vi devo dire Potrebbe essere veramente Molto molto interessante Poi se ci esce a caso La versione con Yubel Che Vodka fa Anche se Yubel ormai Sfortunatamente Ai Medi Economico Non c'ha manco più lo spirito No, vabbè Quello costa 2 euro Però insomma E poi un altro Ovviamente Memento Per andare A chiudere Vedete I Memento che hanno fatto top In Giappone Sono stati tantissimi Quindi è uno dei mazzi consigliati Poi Uno che in realtà Ha fatto poco Ha fatto poco Però io lo vedo molto bene Qui da noi Ice Barrier Secondo me Ice Barrier Qui da noi Può fare la Considerate Cioè la prima Il primo secondo posto L'ha fatto il 17 febbraio Quindi diciamo che Non ha impattato benissimo Non ha impattato benissimo Nel meta OCG Però Però Ricordo sempre Che Yubel È un esempio lampante Però Quindi Ice Barrier Potrebbe essere un mazzo Molto molto interessante L'hanno mischiato anche Con Runic Con Runic Bisogna vedere Se comunque resisterà Runic Però potrebbe essere Una soluzione interessante Con Runic Però già anche fatto di fare Un acqua sincro È molto molto buono Vedete comunque Ice Jade Anche con Ice Jade Hanno fatto dei mix Interessanti Potenzialmente la roba c'è Come possiamo vedere Anche l'Extra Tech È veramente bello fornito È in modo comunque Di avere degli extender Molto molto forti In modo di comunque Evocarti un sacco di roba Secondo me può essere Molto molto interessante Come un mazzo L'ice barrier Probabilmente Sarà anche Relativamente economico Forse lui Mi sa che costa Un pochino Perché è quello Che ti dà Un bel lagazzimma Quella vera Però vi devo dire Effettivamente Supporti Se sono Se riescono A essere fattibili Sempre al momento Della registrazione Perché insomma Al momento Lo sto registrando Un po' prima Quindi insomma Se comunque riesce A essere fattibile Poi lo vedremo Quando verrà pubblicato Il video Verrà pubblicato Sicuramente Post uscita Di Battle of Legends Questo assolutamente Però potenzialmente Ice barrier Comunque secondo me Può essere un mazzo Veramente interessante Ecco Pure con Super Poli Ovviamente Per andare a rompere Il cavolo Con il Kraken Con il Coral Dragon Vedete Già qui comunque Riesce ad assumere Una forma Un po' più interessante Quindi vi devo dire Il medaglione Ovviamente Treppone Anche perché Gli esbari Alcuni Non è che hanno L'effetto Una volta Per turno Quindi Io potenzialmente Metterai anche Il defender Solo perché È una rottura Di coglioni Perché non fa Attaccare Quindi potresti Addirittura Bloccare Tempo A In determinate Situazioni Quindi Secondo me Può essere Un mazzo Importante Anche perché Sicuramente Nessuno Se lo aspetta Anche Gamma Sial Effettivamente Si potrebbe Giocare anche Gamma Sial I cage Sono lasciati Un po' A loro stessi Tralascendo Magari qualche Volta Come il Santa Close O qualcos'altro Però Potersi Giocare anche Il Gamma Sial Insomma Io Ice Barrier Comunque Lo terrei Assolutamente D'occhio Se poi Si rivelerà Un mazzo Fattibile Anche Economicamente Perché No Perché No Marin Sess Marin Sess Che con Una carta Sola Acquisito Un boost Enorme E a quanto pare Ne è bastato Un aqua angel Che fa da Extender Una volta Per duello Va bene Però Ok Avendolo in 3x Comunque Ti fa un Extender Veramente Importante Comunque Gemma Marin Sess Era un mazzo Che dava Abbastanza Fastidio Non sempre Però comunque Era un mazzo Abbastanza Fastidioso Anche perché Potevi contare Abbastanza Negata Abbastanza Interruzione Sui mostri Immuni Addirittura Quindi Insomma Per nulla male Qui un'altra Prof No Che è la stessa Io pensavo Di avere aperto Due diverse Ah no Infatti Sono due diverse No Forse No Sono le stesse Solo Me l'hanno messo In Delle opzioni Diverse Ok No Comunque Ce ne stava un altro Mi ricordo Vabbè Comunque Sempre Marin Sess Che Vi devo dire Marin Sess Quando c'era Ciccio Qui Può essere interessante Interessante Ma non quanto Trickstar Secondo me Perché Trickstar Questo Sono veramente Uscito da poco Ho già fatto Il secondo posto Sono veramente Uscito da poco In Giappone Però Già con L'avvento Delle nuove Carte Questo Trickstar Ha cominciato Ad essere Veramente Interessante Molto Molto interessante Perché c'è L'extender Ma c'è Modo di fare La Wombo Combo Pure con La Trappola La magia Che è Molto Forte Anche Per chiudere Tranquillamente Anche Colchi C'è Acqua E' Molto Interessante Molto Interessante Tra l'altro Vabbè Fa danno Molto Molto Velocemente Quindi è Veramente Forte Il fatto Di Riuscire a Fare Così Tanti Danni Anche La Fusione È Veramente Rutta Comunque Pompa È Veramente Forte Veramente Forte Perché Tu Comunque Dai Un Mazzo Che Di Base Fa Tanti Danni In In modo Di Chiuderla Ancora Più Velocemente Quindi Secondo Me È Un Mazzo Veramente Forte Che Può Fare I Danni Indiretti E Questi Danni Indiretti Ultimamente Sono Veramente Tosti Sono Veramente Tosti Ti Permettono Di Chiudere Non Dico In Facilità Però Vi Devo Dire Tra l'altro Danni Indiretti Alla Non Sono Danni Indiretti Alla Gamic Puppet Perché Quello Fa 1000 2000 Effetto E Diventa Niente Pesante E L'ho Supri L'ho Detto Occhio A trickstar L'avevo Fatto Nell'analisi Ho Detto Secondo Me Tricks Era Quello Più Forte E Occhio E Occhio Anche Al Tag Come Ho Detto Come Venzione Onorevole FTK Ovviamente Poi Valmonica Valmonica In realtà Non ha Fatto Un Cazzo Qui C'è Una Top 16 Ma Per Ritrovarla Altro Magari Non è Stato Riportato Qui Ma È Stato Su Road Of The King Perché Magari Alcune Stanno Lì Alcune Stanno Qua Secondo Me Valmonica Potrebbe Essere Veramente Forte L'abbiamo Detto Ripetuto Tantissime Volte E Lento Maggia Gli Effetti Sgravi Quindi Nel Momento In Cui Magari Si Riesce Anche Perché Poi Gli Danno Supporti Ogni Espansione Appena Si Trova La Carta Lì Dalla Quadra Questo Rompe Il Culo Quindi Qualora Fosse Fattibile Fosse Fattibile Da puntare Assolutamente Tra l'altro Sono due Archetipi Di Valiant Smasher Valiant Smasher Che non Si è Incolato Nessuno Se non Per i Senter Quindi Io In descrizione Cioè Il link Qua sotto Io vi Dico Anche Di Andare A Ordinare Il Box Perché Effettivamente Il box Sta Su Fantasia Ovviamente Si è Un'offerta Ed Ed è Buono Sia Economicamente Nel senso Perché Si è Un'offerta Quindi Si paga Abbastanza Tra virgolette Poco Però C'ha le carte Che costano Che si alzeranno Perché Comunque Ci stanno In momento Dentro E i Sentono Che Con Valiant Aumenteranno E in più Sono Forti Perché Le carte Sono Forti Ci sono Anche Valmonica Secondo Me Questi Archetipi Saliranno Tutti Quanti Assolutamente Quindi Occhio Valmonica Occhio A questo Set Puntateci E poi Ragnarika Traptrix Effettivamente Soltanto Per dare A parte A me Piace Moltissimo Ma anche Per dare Una Soluzione Alternativa Un po' Più Semplice Al Plantlink Perché Plantlink Abbiamo Visto Che È Ci mette Qui Ragnarika Che Servono E Via C'ha Un Plantlink Sì Un Traptrix Ragnarika Veramente Veramente Dignitoso Quindi Secondo Me È Un'altra Opzione Più Da Veramente Tenere D'occhio Assolutamente Questo Assolutamente Sì Detto Questo Ragazzi Fatemi sapere Voi cosa Ne pensate Ovviamente Noi Come Sempre Ci vediamo In un Prossimo Video E Un Saluto A Tutte E